Vittorio Brumotti, questa mattina a Bagnara Calabro, viene da lontano, torre partito il 18 di giugno da Livigno, arriverà ad Agrigento domani dopo domani. Tanti luoghi del cuore visitati, non solo quelli perché dentro c'è tanta solida verità, tanto amore e passione per questo territorio. Qui siamo nel cuore della Costa Viola a Bagnara Calabro, pochi minuti fa a Ceramida. Bravissimo, ti vedo molto molto preparato, è un luogo che mi sta molto a cuore qua perché la mia mamma è proprio di queste parti, era una bagnarota che andava a piedi nudi avanti e indietro sempre qua e mangiava pesce crudo. E allora continua a chiamarmi e a dirmi, non vi dico il commento prima, l'aggettivo qualificativo che mi dava, potevi portarmi. E allora un saluto a tutti gli amici, qua c'è un 50% del mio sangue, qua posso dire di tutto a tutti ma il 50% dei Brumotti viene proprio da queste parti qui. Noi qua diciamo così, bagnaroto, quindi Brumotti e bagnaroto. Non bagnaroto, mamma bagnaroto non bagnaroto. Mi piacerebbe mettere i piedi in acqua e andare a farmi in giro ma devo pedalare adesso. Tanti siti visitati, tante belle location però c'è tanto da fare, anche questo messaggio che vuole essere lanciato da Vittorio Brumotti, dal FAI e dal tour che sta facendo in tutta Italia. Certo, più che altro vogliamo far appassionare le persone a quello che ci appartiene, avere questi beni. Questi beni saranno il futuro per i più piccoli, ci possono elevare tutto ma questa sarà la nostra eredità. Dunque il FAI, questa grande organizzazione che si occupa di ripristinare questi luoghi, diciamo è come un diamante che per sempre. Il viaggio ti ha portato anche nelle zone terremotate e poi la bici alla fine del viaggio sarà messa all'asta per attività sociali. Certo, siamo stati a trovare tanti bimbi, ahimè purtroppo troppi bimbi non oncologici, abbiamo provato due sorrisi, abbiamo fatto un po' di casino. Siamo stati dai terremotati a Arquata del Tronto, diciamo che ho preso energia io, mi hanno insegnato tanto, è stato un viaggio molto interessante. E alla fine sì, cercheremo di mettere all'asta questa bici, speriamo che qualcuno abbia proprio la passione di acquistare questo mezzo, ma sicuramente non verrà fatta l'asta alla fine proprio per alzare il prezzo. finirà su Charity Star, probabilmente che è un sito che si occupa delle aste online. Dunque giusto per dare il giusto risalto a questa impresa, questa maratona fatta con gli occhi attraverso le telecamere dei miei ragazzi fedelissimi che mi seguono sia a Striscia la Notizia sia in questa... Ultima domanda, tanti chilometri, tanta fatica ma anche tanta soddisfazione. Sì, allora pensavo di godermi l'Italia, ho detto tutti, la vedrò, ma ho fatto talmente tanta fatica che diciamo che non ho visto tantissimo, ma andavo a riguardare le videocassette, andrò indietro e dico, ah ma sono passato di là, per tante ore sono a testa bassa, vado, ci sono i pro e i contro, nel senso che mano a mano che scende in giù la gente è molto più calorosa. Bisogna avvisare la gente che a tutti i costi questa maniera del selfie a volte sta diventando un po' pericolosa perché mi chiudono la strada, aprono la portiera per fare un selfie. Bisogna fare attenzione soprattutto ai piccini, io ci sono per tutti, chi mi vuole aiutare mi segue, all'arrivo io disponibile per tutto, per strada non vi fermate perché ho visto gente far retromarcia, fermarsi nelle strade principali, è molto pericoloso. Dobbiamo dare un insegnamento ai più piccini che su strada i ciclisti vanno tutelati, ci dovrebbe essere un metro e mezzo di distanza per la persona. A me mi piace ricordare la persona che scomparse, Michele Scarponi, atleta astana nella squadra che per un incidente stradale ha perso la vita. Dunque rispettate i ciclisti, non ci sono le piste ciclabili, cercate di rispettare noi per strada che non inquiniamo e cerchiamo di fare il nostro lavoro.